Sale l'emozione a Villammare dove questa mattina è partito l'allestimento della piazza Portosalvo per la 21esima edizione del Villammare Festival Film & Friends. Al lavoro Vincenzo Lammoglia e Salvatore Vasta per completare palco e scenografia. Nel giro di poco tempo la piazzetta si trasformerà in un'accogliente sala cinematografica a due passi dal mare e quando le luci si abbasseranno anche questa volta sarà pronta a diffondere la magia del cinema. Dopo i tre giorni di proiezioni non stop, il 23 agosto infatti, si parte con le serate finali, l'incontro con gli ospiti, la proiezione ancora di film e corti in gara. Si inizia alle 20 con l'inaugurazione delle installazioni artistiche che anche quest'anno abbelliranno i giardini del lungomare. Il sindaco Manuel Borrelli, il direttore artistico del Villammare Festival Alessandro Cocorullo e gli artisti Angelo Accardi, Mauro Donegà, Emanuele Lione, Rocco Cardinali e Gennaro Ricco presenteranno le opere che quest'anno potranno essere votate con un QR code coinvolgendo il pubblico e la gente che vive Villammare nella scelta dell'opera vincitrice. Poi dall'eventuno pubblico in sala per conoscere le giurie e proiettare i primi corti in gara. Robote Margherite di Viola Folador, Plastic di Philip Rom, Yalla di Naila Nassar e Tiam di Mattia Zarelli. Ad inaugurare la ventunesima edizione Corinne Clery che animerà la seconda parte della serata. A lei, attrice di successo e amato personaggio televisivo, verrà assegnato il premio alla carriera. Subito dopo verrà proiettato il film con Beppe Fiorello e Valentina Lodovini, La Fide e la Formica, la storia di una giovane musulmana che vive in Calabria e di una gara podistica che potrebbe cambiarle la vita. Il pubblico è già in fermento per farsi avvolgere dall'atmosfera unica del Villammare Festival Film & Friends.